Viviamo in un'epoca difficile, in un'epoca in cui non si crede più a niente e così si finisce di credere a tutto. In questo contesto sono nati quelli contro il mainstream. Questa è dedicata a loro. Quest'anno, quest'anno, mi sono laureato in virologia. Io sono un virologo. Ho preso 110 commenti su 110 like all'Università dell'autostima su Facebook. Io sono laureato, plurilaureato. Io ho il dottorato, io sono pure decorato. Sono laureato in virologia e in scienziologia. In economia, sì, anche in economia. Io in poche poste esistiamo il paese. La sanità, l'istituzione, abbasso le tasse. Anzi, levo tutto. Domani mi apro il sito e mi lauro in sitologia. Perché essendo già iscritto a tutti i social, sono già laureato in sociologia. Sono un sociologo. Ed avendo una società con un logo, sono un sociologo due volte. Perché uno non mi bastava. E con il sito che mi apro, io mi lauro in quello che mi pare. Mi lauro in missilistica, ingegneria, cronaca. C'è un laurea in cronaca? No, famola, no? Domani con il sito sono un cronologo. Poi mi lauro in medicina e poi faccio una web radio. Mi lauro in radiologia, editoria e cardiologia. Così sono anche radiologo, cardiologo e DJ. Poi faccio un master. Prendo un master. Poi prendo il master di tutti i master. E li masterizzo. mi lauro in laureologia. E poi prendo il dottorato in tutto. Tutto. Giusto, no? Un pezzo di cazzo. La verità è che tutti i giorni vi abbeverate all'acqua di pozzi avvenenati da quattro scemi brutti, stronzi. Ci capiscono di tutto ma non capiscono un cazzo. Come me. solo che io lo so. Quando leggete una notizia che vi sembra strana non condividete perché viviamo un'epoca in cui l'informazione è cresciuta più della cultura. E quando questo succede ve piano per culo tutti. Anzi, ve piate per culo da soli.